mmm è una bella porcata burratine, farina, passate pomodoro pangrattato, uova, basilico e cipollone per una bella sarsetta bisogna farla fate la cuoce proprio 5 minuti cucchetto d'acqua farina uovo e pangrattato non sei convinto? e fai un altro passaggio no? uovo un'altra volta e pangrattato l'olio a 170 gradi eh e deve far così mezzo al subietto che è un po' che è un po'